su is good for you grande serata montecchio marittima con dj matrix buonasera buonasera è bellissimo rivederti sono contento anche io anche perché tu mi hai fatto una siga per un programma radiofonico e sono molto contento di questo di averti verso i microfoni ti conosco da tanto tempo un orgoglio vedere che un vicentino come te sta conquistando l'europa allora bella europa esagerato diciamo diciamo italia italia più svizzera dai dai no però ci stiamo divertendo le cose vanno la roba gira e quindi siamo al top e va bene così era ora per la musica dance sono molto felice di questo abbiamo visto abbiamo inquadrato in palco la gente ha ballato con te tu sei veramente il classico animale da palco suoni produci animi le persone canti allora diciamo anche che mi avete visto in una delle serate dove ero a corto di energie però ce l'ho messa veramente tutta e l'abbiamo portata a casa nel senso questo è lo show mio ballare cantare saltare e mixare male grande matrix ci sono qualche altre produzioni musicali in cantiere ce ne saranno ovviamente per l'autunno io te la dico una allora stiamo facendo il brano di enzuccio che uscirà prodotto da me però uscirà come singolo suo stiamo rifacendo tintarella di luna con comunque martina che un artista che era arrivata seconda x factor e quindi abbiamo un po di robe in cantiere diciamo che il tour ci sta mandando un po in palla e quando finiamo iniziamo produrre sarà un'estate veramente ricchissima di date c'è ancora tutto agosto davanti tutto a settembre quindi ti veramente intanto invitiamo il pubblico a seguirti nei social certo ecco qua bisogna seguire perché se no è finita grazie mille buona estate anche a te è stato un piacere essere qua è stato un piacere fare questa chiacchierata con te ci sentiamo presto e mi raccomando passami i pezzi